buongiorno a tutti amici di tech different prova video con sony xperia e3 vediamo siamo in pieno buongiorno il panorama registrazione che è in full hd ricordo fotocamera da 5 megapixel ma registra 1920x1080 andiamo ora di zoom vediamo lo zoom proviamolo vediamo che regge bene qualità dello zoom direi eccellente vediamo il camion che passa eccolo quindi molto buono lo zoom vediamo quando passa dalla luce all'ombra come si comporta l'autofocus un po lento devo dire però poi si stabilizza bene per questo test video direi che è tutto un saluto ciao